Sono stati consegnati i lavori di Palazzo Vigo, splendido gioiello architettonico nel cuore di Torre Archirafi. Il sindaco Enzo Caragliano ci ha spiegato quali sono stati gli interventi effettuati in quello che d'oggi in poi sarà un centro polifunzionale. Lo stiamo consegnando, gli uffici prendono possesso, anche se ancora esiste la guardiania della ditta fino a dove finì la guardiania H24, ma stiamo collaudando la videosorveglianza, gli impianti e quant'altro. Credo che una realizzazione di tale opera, così importante per lo sviluppo e rilancio sempre più di immagine turistica del Paese di Riposto, sia importante. La città di Riposto si annovera questo centro di congresso in cui ci sono le varie avulette che poi apriremo al momento in cui vengono consegnate, perché ancora sono coperte non solo da video ma anche dalla sorveglianza. C'è due grosse aule per il congresso e le avulette attive che sono tutte multimediali con non traduttore e quant'altro. Abbiamo un impianto più che sufficiente, bastevole per gli fabbisogni del pazzo, anche se noi aumenteremo di più la portata dei kilowattaggi, perché l'impianto si presta ad avere grossissime manifestazioni, si possono fare delle fondazioni, si possono fare mostre e quant'altro. Cioè metteremo in piena attività il palazzo per avere non solo una resa costante, la virgianza H24, ma soprattutto una soffriabilità per tutto quello che è lo sviluppo turistico della nostra città. Ricordiamo quali sono le origini del palazzo e cosa invece adesso andrà a diventare? Il palazzo è una residenza storica, è una residenza dei ruffonatori nel tardo seicento. Questo era il palazzo con la chiesa attiva, con le proprietà che allora si estendevano. Poi sono subentrate l'egemonia degli accesi, quindi i vico e poi una veuta diciamo più che avveneristica. Il comune si pagò questa residenza proprio per metterla a usufrutto. Ora andranno sfruttando finanziamenti e quant'altro. Questo finanziamento dei fondi europei che stavamo perdendo. Ma ci siamo riusciti a recuperarla, a rimodularla, a fare un cronoprogramma attuabile. La realtà è questa, siamo riusciti a completarla. Quindi è una grossissima realizzazione, vanto di tutta l'amministrazione, consiglio, tutto nella sua indrezza e che tutti ci siamo praticati a che questo avvenisse. Oggi quindi diventa un centro polifunzionale. Quali sono gli interventi nello specifico che sono stati fatti? Sono stati fatti, non solo il ripistono e l'immissione di quella che è la climatizzazione, la realizzazione di queste aulette che qua non esisteva nulla, della grande aula per i congressi, della seconda aula per i congressi, del centro multimediale, recettività, la messa in opera delle piastre per termoconvettore per avere l'elettricità, la zona parcheggi, il prato, diciamo di questa grande pavimentazione. Credo che sia stata fatta una grandissima opera.